Sono Giovanni Dagati, sono un agricoltore della città di Palermo. Sono il presidente del consorzio del mandarino tardivo di Ciaculli. Il nostro obiettivo è quello di farti innamorare di questo frutto antico, ma sempre moderno, perché sempre diverso da tutti gli altri. Il profumo degli oli essenziali è unico al mondo. La presenza del seme, la dolcezza, il mandarino mantiene dentro di sé un dolce e un pizzico di aspro. Questo mix diventa quel bellissimo retrogusto che ti lascia in bocca dopo aver pasteggiato, sotto tutti aspetti. Tutto questo insieme, del sole abbondante, delle acque buone, del terreno ricco di humus anche, della vicinanza al mare, quindi dell'influenza del mare, questo di qua porta ad avere questo prodotto. Rispettare la natura significa rispettare quello che lei mi dà. Noi non usiamo più pesticidi, sia che sia un'agricoltura biologica, sia che sia un'agricoltura a basso impatto ambientale. È lì che si parla anche di biodiversità. Perché trattare l'afide? Basta che arrivino le coccinelle che si mangiano 200 afide al giorno, ognuna. Che è importante che quando si va a raccogliere il frutto, il frutto deve garantire determinati parametri, che sono la quantità di zuccheri, la quantità di succo. Io credo che il miglior consiglio che si possa dare a dei giovani abbia la perseveranza e il coraggio e la speranza è quella, ci siano tanti dopo di noi che continuino ad amare questa terra. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.